Resta confermata la delibera con la quale il Consiglio dei Ministri nel gennaio dello scorso anno ha deciso il superamento del dissenso emerso in sede di conferenza di servizi disponendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione della centrale di compressione gas di Sulmona proposta come noto dalla società Snam Rete Gas. Lo ha deciso il Lattar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla regione Abruzzo. In contestazione c'era anche l'ulteriore decreto ministeriale del successivo marzo 2018 con il quale il Mise ha autorizzato la realizzazione non solo della centrale ma anche di un tratto di metanodotto della lunghezza complessiva di 1880 metri. Un'opera contestata dalla popolazione sulla quale hanno espresso contrarietà tutti o quasi candidati abruzzesi dei vari schieramenti alle ultime elezioni politiche regionali. Il Movimento 5 Stelle, ora al governo, partecipò alla manifestazione di Sulmona dell'aprile del 2018. La centrale di compressione, lo ricordiamo, dovrà essere realizzata a Case Pente vicino Sulmona nel cuore della Valle Peligna per spingere il gas nel gasdotto che dovrà essere collocato ad una profondità di 3 metri e avrà un diametro di un metro e mezzo e che dovrebbe attraversare per 170 chilometri la provincia aquilana da Sulmona a Montereale passando per i comuni di Collepietro, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d'Anzidonia, San Demetrio, Nevesini, Poggio, Picenze, Barisciano, L'Aquila, Pizzoli, Barete, Cagnano e Miterno e Montereale per poi proseguire fino a Foligno. L'impianto di compressione di Sulmona è funzionale al trasporto sulle dorsali della rete nazionale e alla successiva distribuzione nelle reti regionali dei quantitativi di gas previsti dai punti di entrata sud, 25 milioni di metri cubi standard al giorno e dei quantitativi giornalieri aggiuntivi previsti per il campo di stoccaggio di Cupello. L'area interessata dall'impianto di Sulmona sarà di circa 12 ettari di cui 4 ettari con impianti fuoriterra mentre i rimanenti 8 saranno destinati a verde. L'area è stata acquistata da SNAM tramite accordi bonari con i proprietari. Il tratto sul Mona Foligno è solo un tratto della rete adriatica che dovrà far arrivare in Europa il gas dei giacimenti dell'Arzebaian.